Tutto è pronto amici Tanto per scatenarsi l'Apocalisse Attenzione E si inizia E dalla Gemmer Delle Zurich Che guadagna la lead Ma è subito inseguita Da Eloci Ractor Attenzione, subisce un colpo Ma non esce dal track Facciamo un bel applauso Pubblico Secondo Gem E le skaters Sono schierate sul track Gemmer Delle Zurich Sin sister Mentre per le artist Abbiamo Kill B Ed ecco che Eloci Ractor Intercetta Che permette a Kill B Di guadagnare la lead Il pack accelera Ecco che Kill B Chi ama alla fine del Gem Quattro a quattro Il punteggio Vi ricordiamo che i punti Vengono effettuati Dalle Gemmer Che hanno la stellina sul casco E i punti si fanno superando Le anche delle avversarie Ecco che la lead è stata conquistata Bella Bella Gemmer Numero 21 21 Mona Mortel Delle Zurich Eloci Ractor Al penalty box E Silph Non si fa intimorire Corre alla conquista Del track Ma viene chiamata Alla fine Un bel applauso pubblico Fatevi sentire Vedi Squarna La Gemmer Delle Arte Mentre Per Le Zurich E' la numero 44 Della di Cerri E via Si scatena l'inferno Lei non si fa intimorire Attenzione Grandi colpi di scena E beh Le Zurich Squarna A guadagnare La lead Ma Perde Cade E La madre Ai 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 Penalty box Per Voodoo Doll Viene chiamata La fine del gel Altro gem Altra formazione Kill B Per Le Heartis Mantatak Per Le Zurich Applauso Applauso Attenzione Un rovinio di gambe E pattini Ma nessuno Si fa intimorire Ecco che il pack Si ricompone Ruse di qua E ruse di là Le gem Si fanno spazio Mamma mia Quante Emozioni Su con un po' Di timo Pubblico Sosteniamo Il batte Ragazzi Magmirtle Finisce Al penalty box Ai 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 Ed ecco Che C'è una situazione Di power jam Per La squadra Di Zurigo Che vede Come unica Jammer Sul track La loro Anche Babette Finisce Al penalty E via Anche McVirtle In castigo E viene chiamata Alla fine Del giorno Alla fine Alla fine che si riprende si inizia sezione vediamo Silvani lottare e guadagnare la list mentre solo ora che frusta ragazzi dai electric lemon appena si sia svuotato e viene chiamata alla fine del jam un bel applauso il punteggio è di 14 per le artis e di 34 per le zuri poi ci si spallate dei jamers si fanno spazio ai 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 che non si per me è il mio foglio un po' di sguardo devi ancora passare il petto passa ora diamo matatak conquistare il track come Liz jammer e viene chiamata alla fine come ma si 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 il genio il genio di Rigoparte a canone tra il no pain gli ostacola brevemente la conquista della Liga fine del genio 14 a 41 gem che parte con una situazione di power gem a favore delle malattie attenzione lo giraport parte a canone ma viene intercettata attenzione la jammer delle Zurich che passa il pack senza il minimo sforzo e guadagna la Liga bravo, reazione da parte più tardi e viene dischiata e viene dischiata e viene dischiata e viene dischiata e ti sguarda in cassa colpi ma non cade, passa al pet ai 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 penalti box per gli altri lemon e ti sguarda in cassa colpi ma non cade, passa al pet lead conquistata da C-Sister Venezu e bella volta di Kinti che supera il pet e vengendo Artes 14 Zurich 52 Leve the purpose back back Leve the purpose back back Alla genera numero 21 delle Zuri, che è un buon potente, fine dei generi, forza pubblico, un bel applauso! Quanta attacca, genera delle Zuri, Lady Squad per le Alpes! Wow wow wow! Attenzione! È una lotta senza esclusione di colpe! E' un'altra cosa, genera delle Zuri, Lady Squad! E' un'altra cosa, genera delle Zuri! Nooo... Attenzione, Lady Squad a usare per bloccare la Genie, che passa e guadagna altri punti! ai 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 prova un barco e passa senza patita altro penalty il più sguardo tutto è pronto e si è fatto e stiamo di Ultras teleatis questi bivi la curva gialliniera si inizia 14 per le Harpies 74 Zuri no ho detto una bugia 14 Harpies 80 Zuri un bel applauso un bel applauso pubblico dai un bel applauso un bel applauso e senza minimo forte passa il pack e chiama la fine attenzione si inizia un bel applauso un bel applauso un bel applauso e passa il pack guadagnando la league mentre 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 la diceri lo supera adesso è un bel applauso un bel applauso si riparte ecco che il mandataccio viene ossacolato e si arrende e si arrende e si riparte Renopena la conquista di Torec la malalizia viene conquistata con un salto dell'Apex per la numero 21 Mono Mortel e viene chiamata la fine del gioco la fine del gioco la fine del gioco e viene chiamata la fine del gioco e viene chiamata attenzione Lidia è contestata ma anche attacca fa tempo tanta diretta ma è difficile perché è stata fatta Mi secuante emozioni 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 emozioni Mi secuante 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 emozioni attenzione Lipe conquistata da Matotak Zurich Non è altibox va bene Kunigan Gemmer delle Artis mentre per Zurich la numero 21 Mona Mortel si inizia Lipe conquistata da Kunigan Artis mentre viene il timofax per Matt Mirko e viene chiamata la chino di Gemmer Matt 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 Versus Kilpi Applauso E rimonta il quaderno Viene chiamata alla fine del giorno Alcuno per l'equipe Sinsister Versus Nobremopei Mitz In due da contare Speedpack in genera avversaria Lita conquistata da C-Sister Forse che forse piove un pochino E si riparte con un altro gem Mitz conquistata dalla numero 21 Mitz conquistata da C-Sister Mitz conquistata da C-Sister Mitz conquistata da C-Sister Mitz fu il clove Mitz 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 E via, si inizia con le jam che si colpiscono, attenzione, chi conquisterà la lead di questo jam ed è la numero 44, il numero platicelli per il turin, aiaiai, penalti box per una gomitata, per il numero 5 leggole. Viene leggendo. Alt'attacco verso gli stupi e il pubblico eslutta. Inizia in sordina, attenzione, è in pomo. Inizia è conquistata da Kitty. Ecco che manca, esce ora dal pezzo. E viene chiamata alla fine del jam, amici, facciamo un applauso. Brividi ed emozioni, passaggi, non solo per il freddo. Brividi ed emozioni, passaggi, non solo per il freddo. dettagli. Inizia inizia inizia. Eh, mira! Ma tengo un elegerino. Sobbri inizia 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 inizia. Si rimafferono i corretti, sobbri inizia inizia inizia. Grazie a tutti. Ed ecco, ed ecco che le jammer lottano e beh, si fa guadagnare la lead in seguita da Blane Cherry. Ed ecco, ed ecco, ed ecco. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.